E' un periodo d'oro per il panorama rap e pop campano dopo il successo riscosso da Rocco Ant a Sanremo e nei giorni in cui i 99 poste lanciano una raccolta che ripercorre la loro storia antagonista, Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro, che dello stesso Ant è stato riconosciuto come una sorta di maestro, riempie la casa della musica. Tanti fan in delirio sulle rime di uno dei freestyler più apprezzati in Campania e oggi sdoganato anche fuori confini regionali. Partivo a 16 anni che mi mettevo nel treno, arrivavo a Torino a fare le gare di rap e se non vincevo le gare a Torino o a Milano non ero famoso neanche a Napoli, nel senso che a Napoli fai qualcosa, sei famoso solo a Napoli. Lo fai a Milano e il giorno dopo in tutta Italia lo sanno, quindi alla fine un po' di talento, un po' di fortuna, molta fortuna, però io credo sempre che non bassi solo la fortuna, devi andartela anche a apprendere delle cose. Un successo enorme, volendo anche inaspettato, che il rapper sta provando a gestire nel migliore dei modi. Sì, è arrivato sicuramente piano piano, nel senso che è iniziato tutto prima nei centri sociali, con le gare di freestyle, fino a Giovanotti, a Pino Daniele, e lo gestisco sempre come mi hanno insegnato i miei, insomma, a mangiare, qualsiasi cosa li mettono davanti, a parlare come mangi anche, se parlo in italiano non vuol dire che annunciarci parla a Napoletano, per dire, per fare una battuta. E niente, poi lo riesco a gestire con la calma, ecco, magari mentre prima facevo le sei del mattino, adesso a mezzanotte cerco di stare già a casa, ecco. Una vita più d'artista, anche perché penso che un artista, una volta che è diventato anche un minimo famoso, gli devi fermare un attimo. E niente, a Napoli adesso, fortunatamente, magari sai, non riesci a prendere nemmeno la metropolitana, perché magari stanno i ragazzini che vogliono la foto, però è vero anche che è bello che questi ragazzini ti chiedono foto, autografi, e tu sai che se in quel momento non fai una foto con un ragazzino, era come se io la chiedevo a Pino Daniele e lui non mi faceva la foto quando io avevo 16 anni, e quindi devi sapere gestire tante cose, secondo me.